Un tipo di migrazione invece di professionisti oppure di persone che intendono intraprendere e che io credo debbano trovare un ambiente favorevole nel saper cogliere le opportunità. Quindi la prima cosa da fare, complessivamente nei processi migratori, bisogna assolutamente dire che è necessaria una maggiore integrazione, ma quando parliamo di integrazione non significa che uno diventa un cittadino italiano piuttosto che un cittadino polacco se è appunto proveniente dalla Turchia piuttosto che... no, diventa un cittadino europeo perché l'Europa è in grado di favorire un contesto territoriale di sistema che permette a questo cittadino di sentirsi a casa propria e nello stesso tempo di intraprendere per realizzare una possibilità di sviluppo di crescita e di occupazione, non solo per se stesso ma anche per altri collaboratori. scrado flottore condizzi lasse Grazie a tutti